Salve, oggi parliamo della Ibis 2130, il semovente più piccolo presente nella gamma della Mazzotti. Un semovente compatto e leggero, pensato per i trattamenti sulle culture orticole. Un mezzo bilanciato con una bassa compattazione del suolo. La Ibis 2130 con una cisterna a 2100 litri, la Ibis 2530 con una cisterna a 2650 litri, entrambe possono essere equipaggiate con barre da 18 a 24 metri. Sotto il cofano troviamo un motore 4 cilindri John Deere PowerTech da 140 CV, abbinato a una trasmissione idrostatica e 4 ruote motrici. Due pompe in tandem alimentano due circuiti idraulici indipendenti, uno per la sala anteriore e uno per la sala posteriore, garantendo la massima trazione anche nelle condizioni più difficili. Due le marce disponibili, da 0 a 20 km orari in campo e da 0 a 40 km orari in trasferimento su strada. La Ibis è un suo movimento estremamente versatile, disponibile con tre diversi tipi di assali, a sfide a un meccanico o a sfido idraulico dalla cabina. La luce da terra standard è di un metro, oppure a richiesta, fino a un metro e mezzo. Il raggio di sterzata ridotto e il passo contenuto sono fondamentali per ridurre i tempi di manovra e il danneggiamento delle culture. Le quattro ruote sterzanti, attivabili in lavoro mediante un pedale in cabina, permettono alle ruote posteriori di seguire quelle anteriori, evitando solchi inutili e dannosi. Nel vano lato sinistro troviamo una pompa da 280 litri al minuto o in alternativa da 330 litri al minuto. Sia un flussometro che un presostato lavorano in alternativa per garantire la migliore distribuzione ad ogni velocità. Nel vano lato destro sono localizzate le valvole per il riempimento, la miscelazione del prodotto e il lavaggio. Nel capiente premixer da 40 litri è inclusa anche l'indispensabile lavavarattili. La cabina frontale trasmette una piacevole sensazione di guida sia in strada sia su campo. La visione delle ruote dall'interno della cabina agevole le manovre di inserimento, mentre la posizione della barra in trasporto non ostacola la visibilità su strada. Si tratta di una cabina di livello 4, pressurizzata, dotata di filtri a carboni attivi, antipolvere, vapori per una massima protezione dell'operatore. All'interno troviamo il sedile pneumatico, il climatizzatore e un'ampia console con comandi ergonomici. Il monitor terra effettua la diagnostica in tempo reale e in caso di bisogno permette di individuare tempestivamente la soluzione necessaria per ridurre al minimo il tempo di fermo. La IBIS può avere di serie il computer della relazione dell'Arag oppure può essere integrata con i sistemi John Deere e montare i display Gen 4, l'autotrack, l'antenna Starfire o la predisposizione per il JD-Link. La barra è posizionata su un parallelogramma ammortizzato che contribuisce alla stabilità della barra stessa. L'escursione del parallelogramma va da 50 cm a quasi 2 metri. La IBIS monta barre della serie T-IM, robuste e leggere, dotate di autolivellante, geometria variabile e chiusura indipendente. Getti ed ugelli sono perfettamente integrati e protetti nella struttura della barra. Le barre T-IM sono disponibili anche con bracci inox, resistenti alla corrosione passante che a lungo andare può danneggiare la struttura stessa della barra. Soprattutto nelle colture orticole, la barra può essere equipaggiata con la manica d'aria, per migliorare la qualità dei trattamenti, la copertura e la penetrazione, in particolare in caso di importante massa fogliare. Inoltre, la manica d'aria riduce la deriva e la quantità di acqua utilizzata allungando gli intervalli di riempimento. Azzotti IBIS 2130-2530, un semovente professionale e versatile per agricoltori con specifiche esigenze.